Ben trovati con le notizie di sport di ATV Marche, edizione che apriamo parlando di calcio con la Lega Pro in primo piano. Intanto Lascoli in campo a Chiavari contro la Virtus Entella, gara che è stata posticipata ieri a causa del maltempo e dell'allerta maltempo proprio sulla città Ligure. Si è giocato invece il match della Vispesaro che ha vinto nel finale 1-0 in casa del Legnago. Vediamo. Seconda vittoria consecutiva per la Vis dello squalificato Stelloni. I marchigiani infliggono a Legnago la terza sconfitta di questo scorcio di stagione, quarta se si considera la Coppa, in una partita che hanno interpretato facendosi preferire palla a terra dall'inizio alla fine. Gastaldello conferma il 3-5-2 con Noce in difesa che prende il posto dello squalificato Zanandrea, ma soprattutto in avanti assieme ai Rossi gioca Bombaggi, ultimo arrivato in ordine di tempo. La Vis è la stessa che lunedì ha vendicato la sconfitta in Coppa Italia con l'Arezzo, a parte l'ottimo Palomba, che in difesa gioca al posto dell'acciaccato Tunucci. Il Legnago è costretto al primo cambio dopo 10 minuti per l'infortuno di Casarotti, al suo posto il più offensivo Demirovic. La sua priorità ospite fin dall'avvio non frutta occasioni, a parte un colpo di testa di Palomba, su punizione prolungata da Bove che Toniolo para benissimo anche se il gioco era fermo per offside. I padroni di casa si vedono solo con un cross da sinistra di D'Amore, che Vukovic non controlla, ma Paganini sbroglia. Gara molto fisica anche per la pioggia che rende pesante il terreno. Al 28esimo botta da fuori di Palomba che Toniolo devia in qualche modo. Poco dopo Gastaldello è costretto al secondo cambio. Fuori Pelagatti il capitano esce tenendosi la spalla destra dentro Ruggeri. Al 40esimo Orellana tenta dalla distanza di Mancino, para Toniolo. La Viss nella ripresa sfiora subito il vantaggio con un Mancino da casa propria di Orellana, fuori di pochissimo. Non alta di molto nemmeno la conclusione di sinistro che esplode il numero 30 al 48esimo a chiudere una bella azione ospite di prima. Viss pericolosissima con Cannavò che prima non riesce a tirare a contatto con un difensore e poi non trova la porta ingirata sul cross di Paganini. Al 56esimo la prima occasione dell'Egnago sulla punizione di Demirovic e Ruggeri di testa scheggia la traversa. Poco prima dell'ora di gioco la Viss opera i primi cambi dentro di Paolo e Zoya, fuori Tavernaro e Pecciotto. Paganini scala esterno sinistro ed è da lì che dipinge un cross che Nicastro toglie dalla testa di Palomba, sempre attaccante aggiunto. Viss vicina il gol. Al 74esimo sul colpo di testa di Paganini deviato in corner. Lotta in mezzo al campo da cui escono gli ospiti con un pallone che Orellana domestica e lancia per Di Paola. Girata su Damore e destro a superare Toniolo 0 a 1. Si è giocata la prima giornata nel girone F del campionato di Serie D. Allora andiamo a vedere i risultati di quanto è accaduto nella giornata di ieri. Intanto la vittoria dell'Ancona 2 a 0 in casa sull'Isernia. 0 a 0 nel derby marchigiano in uno dei tre derby marchigiani tra Atletico Ascoli e San Benedettese. Vittoria della Fermana 3 a 2 in casa della Recanatese e della Vigor Senigallia 3 a 0 in casa del Castelfidardo. Le altre marchigiano. Il Fossombrone vince 4 a 1 in casa contro il Teramo. La Civita Novese cada l'Aquila 3 a 0. Completano il quadro il 3 a 0 del Chieti in casa dell'Avezzano. E poi la vittoria esterna del Termoli 2 a 0 in casa del Notaresco. Ed il 3 a 2 del Zora in trasferta in casa del Roma City. Esordio vincente per la rinnovata Ancona. Le parole sono quelle di Mr. Gadda nel dopo partita. Era una giornata particolare. Inutile nasconderlo per me, per tutti. E quindi ci tenevamo a partire bene. Fermo restando che quello che ho detto ieri. Nel senso che è la prima giornata e c'è un campionato intero da fare. Quindi siamo molto contenti perché, ripeto, è vero che era la prima ma la giornata era davvero particolare. Questo stadio oggi ha rischiato di rimanere chiuso senza nessuno che giocasse. E invece credo che è stata per la gente, per noi, una giornata bellissima. Sono convinto che questa squadra può crescere ancora tantissimo. Abbiamo fatto una buona partita sicuramente. Abbiamo concesso il gol per errori nostri di passaggi indietro. Va bene che possono succedere, però abbiamo sempre condotto la partita contro una buona squadra organizzata. Poi ha segnato Antonio, l'attaccante. Siamo contenti per lui e pensiamo alla prossima. Mi è piaciuta la squadra organizzata. Ha avuto due palle gol per regali nostri, però giocano un buon calcio. È una squadra propositiva, quindi una squadra anche fisica, di gamba, giovane, che corre. Quindi non è stato assolutamente semplice. Ci mancava un portiere da mettere insieme a Mattia Bianchi, che comunque è un ottimo portiere. Oggi ha giocato subito, ha rimediato un paio di errori nostri. Sappiamo che è un portiere valido, giovane. Anche lui può crescere tanto e siamo contenti che è venuto da noi. Mi è piaciuto tanto il fatto di essere continui nell'atteggiamento, nel cercare di giocare, di andare ad attaccare. Questo mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo fatto qualche errore di passaggio tecnico, come i due passaggi indietro. Qualche errore in mezzo, però va bene, può succedere, ci sta. Però l'applicazione che hanno messo questi ragazzi oggi, credo che sia il viatico giusto per continuare in questo campionato, che basta già questa prima partita per dire quanto è difficile. Prima giornata anche nel campionato di eccellenza marchigiano. Questi i risultati. Che sport a Montecchio Gallo vince in casa dell'Almafano 2-0. Vittoria esterna anche del Chiesa Nova 1-0 in casa dell'Atletico Mariner. 1-0 del Matelica in casa con lo Simana. Monte Granaro, Monturano, Campeglione 1-1. San Giustese e Portuali 2-0. Tolentino sconfitto in casa dal Montefano 1-0. A Urbani alla vittoria della Maceratese 1-0. Urbino batte Fabriano Cerreto 1-0. Ovviamente classifica molto facile. Dopo una giornata tre punti perché sport a Montecchio Gallo, San Giustese, Chiesa Nova, Maceratese, Matelica, Montefano e Urbino. 1-1 per Monte Granaro e Monturano. 0 per Mariner Fabriano Cerreto. Simana, Tolentino, Urbania, Almafano e Portuali Dorica. Parliamo ora del premio sportivo letterario Invictus. A Cisterna di Latina si va verso la finale. La conclusione. Sport e letteratura. Giovedì 12 settembre nel corso della cerimonia a partire dalle 18.30 presso la prestigiosa sede della Corte di Palazzo Chetane e Cisterna di Latina verrà annunciato il vincitore della quinta edizione del premio Invictus ideato dalla casa editrice Lab di FG. Il nome del libro vincitore uscirà da una cinquina come al solito di grandi opere, grandi autori e grandi case editrici. La forma dei sogni di Andrei Longo della Sellerio. Il mio calcio furioso e solitario di Walter Sabatini, PM, La piuma del ghetto di Antonello Capurso, Gallucci Bross. Ci alleniamo anche se piove di Andrea Masciaga e Gianluca Bavagnoli, Rizzoli, Drazen Petrovic di Lorenzo Iervolino, 66 in second. A scegliere il vincitore sarà la giuria presieduta dal bicampione olimpico Davide Tizzano, da giornalisti sportivi e altri rappresentanti del mondo sportivo. Durante la serata saranno premiati anche gli atleti dell'anno. Il quinto premio Invictus è inserito in una tre giorni di eventi che inizierà domani con Invictus School, partecipazione del mondo della scuola alla ricerca di nuovi talenti e appassionati di letteratura sportiva. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo come di consueto che le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito www.etvmarche.it e sulla nostra pagina Facebook di Etv Marche. Grazie ovviamente per l'attenzione e l'augurio di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.